qualcuno che lo fa amici queste le storie di una stella e tante volte brevi e tante volte no ma se non mi sembro brava sopra il letto non chiedermi di fare lucine e quando si fa l'amore è bello tutto gridare in quel momento forza Roma io sono quel che sono noi siamo perché siamo per quel paracadute americano ma come fa l'amore nelle antille questo non si sa si sa soltanto che in Italia come c'è già qualcuno che lo fa ma come fa l'amore nelle antille questo non si sa si sa soltanto che in Italia come c'è già qualcuno che lo fa iscriviti al canale Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.